Cos'era, 4B Movie, perché mi interessa anche per un lavoro sull'immaginario in qualche modo, in questo caso. Ti va? Va bene, mi piace a voi. Io pensavo in realtà possiamo, magari dopo 4B Movie, chi vuole andarsi per il cinema, però possiamo mettere anche il modern di Giovanni Panzer, che è un lavoro, diciamo, più recente. Andiamo qui, possiamo parlare? Ah, va bene. 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 Ah.